Il Presidente della Regione Calabria, Roberto Chiuto, ha dissipato le voci riguardanti la sede del prossimo Capodanno Rai in Regione, affermando che la decisione è ancora in fase di valutazione e sarà presa nei prossimi mesi in collaborazione tra la Rai e la Regione Calabria. La sede nella quale si terrà il prossimo Capodanno Rai è ancora da stabilire, dice il Governatore, sarà individuata nei prossimi mesi di concerto. E' chiaro che mi farebbe piacere che una città importante come Reggio Calabria potesse ospitare questo grande evento, ma ancora nulla è deciso e le valutazioni verranno fatte solo nell'ultimo trimestre dell'anno. Questa dichiarazione giunge in seguito all'affermazione del coordinatore regionale di Forza Italia, Onorevole Francesco Cannizzaro, il quale aveva annunciato ieri durante una conferenza scampa la scelta della città per il prossimo anno sarebbe ricaduta sul Reggio Calabria. Occhiuto ha quindi ribadito che la decisione finale sarà frutto di un'attenta valutazione e che tutte le opzioni sono ancora aperte. L'incertezza della sede del Capodanno Rai in Calabria aggiunge suspansia attesa per gli abitanti della Regione, i quali dovranno attendere il verificarsi e gli sviluppi nei prossimi mesi.